Salve a tutti! Un caro saluto da Francesco Samani ed eccoci in questa nuova diretta. Allora, un insegnante, per avere una visione d'insieme per quanto riguarda la propria classe, deve, prima di tutto, individuare in che categoria si inserisce la propria classe di concorso e le proprie materie che insegna. Ovviamente le materie possono essere, le ho divise per ora in tre grandi gruppi, le materie umanistiche, le materie scientifiche e linguistiche. Le materie linguistiche come inglese, francese, tedesco, cinese, eccetera, eccetera. Le materie scientifiche come la matematica, la fisica, la chimica, la biologia, le scienze della Terra. E infine le materie umanistiche, italiano, storia, geografia, educazione civica. Ovviamente tra le materie linguistiche, il liceo scientifico, viene fatto anche il latino, ma la letteratura latina è anche una materia umanistica. Quindi ci sono anche materie che sono a cavallo tra una categoria e l'altra. Allora, se si pone lo studente al centro di tutto, che è anche quello che viene indicato nelle indicazioni nazionali, nell'UDA, nell'unità didattica di apprendimento, quello che cambia rispetto all'unità didattica, essenzialmente che è lo studente ad essere centrale rispetto all'intervento didattico. Noi, insegnanti, quindi tutti i docenti, devono fare osservazioni sistematiche sul modo di procedere e sul livello, ovviamente, di apprendimento di ogni singolo studente. Per fare ciò, dobbiamo fare un piccolo escursus relativo ai tipi e agli stili di apprendimento. Ovviamente, essi si dividono essenzialmente in stili di apprendimento visivo-verbale, stile visivo-non-verbale, stile uditivo e stile cinestetico. Quindi, nello stile visivo-verbale c'è una preferenza da apprendere attraverso la letto-scrittura. Nello stile visivo-non-verbale c'è una preferenza da apprendere attraverso immagini, disegni, fotografie, simboli, mappe concettuali, grafici e diagrammi. Considerate che questi esempi possono essere anche utilizzati nelle misure compensative per gli studenti con bisogni educativi speciali. Spesso si usano mappe concettuali quando si ha a che fare con studenti che hanno dei bisogni particolari. Poi, per quanto riguarda, ovviamente, lo stile uditivo lo dice la parola stessa, c'è una preferenza da parte del discente ad apprendere attraverso l'ascolto ed, infine, nello stile cinestetico c'è una preferenza ad apprendere attraverso attività concrete. Ma vediamo ancora più nel dettaglio il significato di questi stili di apprendimento. Ovviamente, nello stile di apprendimento visivo-verbale, quindi nell'apprendimento della preferenza da apprendere attraverso la lettoscrittura, il bambino va a compiere una transcodifica dal codice orale al codice scritto. Quindi, si tratta di un'abilità che non è sempre facile, ma è necessaria per la costruzione di conoscenze e lo sviluppo di competenze comunicative e linguistiche. Per un approccio inclusivo, si devono quindi considerare sia i processi alla base della lettoscrittura, che le caratteristiche del sistema ortografico italiano. Per quanto riguarda lo stile visivo-verbale, io vi faccio l'esempio della mappa concettuale, che è stata molto utilizzata negli ultimi anni. Essa, dunque, nasce proprio come strumento grafico per rappresentare e organizzare la conoscenza di un argomento. Lo si fa prendendo dei concetti, mettendoli su un foglio di carta ed evidenziando graficamente i collegamenti e le relazioni che li legano tra loro a più livelli di profondità, come se fosse un diagramma ad albero, per intenderci. Ovviamente, per chi ha la preferenza ad apprendere attraverso l'ascolto, quindi vi è un canale, uno stile di apprendimento uditivo caratterizzato, quindi, dalla preferenza per l'ascolto, quindi dalla presenza ad una lezione o dibattito e dal lavoro con un compagno nel gruppo. Per valorizzare questo tipo di apprendimento, le strategie utili sono fare molta attenzione alle lezioni in classe, richiedere spiegazioni orali di ciò che non è chiaro, registrare la lezione a scuola, così come la propria voce che ripete, lavorare in coppia con un compagno e trasformare le pagine del libro in formato audio per poi riascoltarli. E veniamo, infine, all'ultima parte, quindi la parte dell'apprendimento, dello stile di apprendimento cinestetico, quindi riferito a coloro che preferiscono apprendere o che hanno una preferenza ad apprendere attraverso attività concrete. Il canale e lo stile di apprendimento cinestetico è quindi caratterizzato dalla preferenza per attività concrete e per comprendere ciò di cui si parla. Per valorizzare questo tipo di apprendimento, le strategie da attivare vanno dal fare prove nelle materie in cui sia possibile trasformare in pratica quello che si deve studiare, ad alternare i momenti in cui si sta seduti, a momenti in cui si si alza, a suddividere in modo chiaro i momenti di studio delle pause, a creare mappe, grafici, diagrammi di ciò che si studia. Ovviamente queste sono categorie, sono differenzazioni che ci aiutano a comprendere meglio i nostri studenti, ovviamente queste sono nozioni che vi aiutano a prepararvi meglio al concorso docenti. E che dire, io vi ringrazio sempre per i vostri commenti, per il fatto che condividete il canale, per il fatto che vi fate vedere sempre presenti. Allora, siamo arrivati alla fine del video, io vi ringrazio ovviamente tantissimo per avermi prestato attenzione e come è mio solito fare, vi porgo un caro saluto da Francesco Samani. Alla prossima! Alla prossima! Grazie a tutti.